E' rientrato e ha fatto saltare il generatore. Tra sei ore qui ci saranno 40 gradi sotto zero. Ma è un suicidio? Non per la cosa. Vuole congelarsi adesso. Non ha modo di uscire, vuole mettersi a dormire al freddo finché arriva la squadra di soccorso. E adesso che facciamo? Che possiamo fare? Dobbiamo solo impedire che la cosa si ricongeli. Cerchiamo di tenere alta la temperatura col fuoco. Non usciremo vivi di qui. Ma neanche la cosa. Quinti? No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no.